L'aumento di contagi da Covid-19 nell'ultima settimana nella nostra regione sta creando un po' di apprezzione nella cittadinanza, ma come ha spiegato questa mattina ai nostri microfoni il professor Jacopo Vecchiet, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, la situazione deve essere analizzata bene. Probabilmente il ruolo essenziale è legato a queste due sottovarianti di Omicron che hanno dimostrato di essere particolarmente capaci di contagiare. Però il dato positivo è che a fronte di questo numero così elevato di soggetti contagiati noi non abbiamo un elevato numero di soggetti che hanno bisogno dell'ospedale. A far sperare sono anche i progressi della medicina con i nuovi vaccini. Noi non siamo ancora usciti dalla pandemia, siamo in una fase nuova, sicuramente la vaccinazione ha avuto un ruolo fondamentale e io credo che la soluzione definitiva passerà attraverso le nuove vaccinazioni che hanno anche le varianti che in questo momento stanno circolando. Però è innegabile che la preoccupazione non è per oggi o domani o nei prossimi giorni, è per quello che potrebbe accadere in termini di contagi a settembre-ottobre. Se dovessero aumentare il numero dei contagiati noi sappiamo che una quota parte è per anzianità, è per fragilità, è per patologie croniche di tipo cardiaco o respiratorio poi ha bisogno dell'ospedalizzazione, quindi i numeri potrebbero modificarsi. Prima parlava di una malattia che è cambiata, di un virus che è cambiato, che è mutato. È mutato come rispetto a due anni fa? Devo dirle che probabilmente anche in virtù del fatto che incontra una popolazione immune o comunque ha avuto un contatto e vaccinata sicuramente sembra avere una clinica diversa con un impatto minore sull'apparato respiratorio e con invece una localizzazione maggiore sulle alte vie respiratorie, quindi sulla gola, sul naso.